benvenuti o bentornati sul canale del sottoscritto io chiaramente sono federico fruscianti e questo è un appuntamento di fruscianti al cinema ovvero un video su film che sono appena usciti al cinema che ho visto una o due volte dei quali mi va di discutere sul mio canale e di fare subito un'opinione veloce per dire per dare insomma la mia impressione soprattutto per dire non dire se per me è il caso di andare al cinema a vedere questi film questa mia fruscianti al cinema parte da per un'animazione giapponese che è basato sul basket del quale avevo idea dell'esistenza se non per qualcosa che avevo sentito nominato perché è famosissimo il film è the first slam dunk di takeiko inoue che ha fatto questo manga che ha avuto un successo clamoroso da cui è tratto un anime che ha avuto un altro successo clamoroso da cui sono stati altri attratti altri quattro film ovun insomma uno degli anime di successo più grossi del giappone un manga anch'esso notevole a livello di vendite ma mi dicono anche a livello qualitativo non ho mai visto né uno né l'altro se non mi forse mezza puntata su mtv una volta e mi ricordavo che il protagonista è il ragazzo da capelli rossi ovvero sakuragi che qui comunque nel film ha una sua bella parte allora diciamo che questo film narra la storia di una partita di basket in realtà fra questa squadra super campione del giappone imbattibile sembrerebbe ovvero la sanno che incredibilmente deve battersi con una delle squadre più scalcinate di un più povere di tutto il giappone ovvero la shoku della quale fanno parte i nostri e diciamo così eroi del film ho capito che il protagonista era ragazzo a capelli rossi ripeto come ho detto sakuragi che comunque nel film ha una valenza importantissima del quale si capisce però evidentemente il regista da quello che ho capito ci ha messo 13 anni perché il film a livello di storia è abbastanza semplice questa partita di basket è inframezzata da vari flashback che ci fanno capire la storia di sakuragi appunto di riotamiagi di sayashi e di tutti insomma gli altri componenti della squadra oltre che addirittura anche dell'allenatore fantastico io non avevo ripeto essendo completamente al vuoto vado lì perché darione me l'ha detto vai vai che ti garba e in effetti porca puttana al di là di tutto la trama è veramente fatta come dio comanda pur non avendo mai visto un cazzo presente il film dura due ore e cinque divide metà per partita e metà per tutto quello che serve a spiegarci appunto ciò che è la psicologia di questi personaggi e nella storia appunto di questo ragazzino col fratello che muore la madre è veramente bella e giostrata senza retorica e piagnonerie varie è un film che su questo punto di vista funziona funziona quando descrive anche appunto come mai il rosso è entrato in squadra come è un film che anche a uno che come me non conosce un cazzo del cartone riesce a goderselo pienamente perché questa parte il film in realtà parte con questa partita e primi 5 10 minuti io essendo uno che del basket non me ne frega veramente un cazzo e primi 5 10 minuti sì ti fai prendere ma più che altro dalla grafica di cui parlerò dopo ma e poi invece incominciano a partire sia dopo l'inizio diciamo dove lui è bambino iniziano a partire questi flashback che sono messi benissimo dove iniziano a spiegare un po tutti il capellone che poi si raserà il nostro appunto playmaker il nostro capitano riesce a farci entrare anche chi non ha capito me con pochissimi particolari dentro una storia e quindi cominciamo a tifare per questi loser per questi perdenti che sono in realtà più vicini a noi degli altri che sono veramente insopportabili seppure anch'essi comunque mantenuti su un livello di umanità notevole quindi è un film da questo punto di vista che funziona sul lato sportivo perché la partita mette in ansia mette in paranoia non sai non sai come fa a finire precisamente per me non sapevo se vincono o perdono ed è incredibile una squadra che ne manco conosco come visto eppure mi sono trovato ripeto dopo l'inizio tutti i flashback ha incominciato a tifare ad essere preso da qualcosa del quale non avevo alcuna conoscenza e quindi si capisce il grande lavoro di scrittura in realtà che c'è stato fatto per cercare di inserire nuove parti mi hanno detto che non esistevano nell'anime vecchie e tratto soprattutto una puntata che si chiamava piercing mi pare insomma tutto messo insieme e per dare anche la possibilità a chi non conosceva assolutamente slam dunk e comunque è vecchiotto di potersi vedere questa cosa al cinema io ripeto poi piano piano tutti i flashback incominciano a incastrarsi quindi i personaggi incominciano a crescere e un'altra volta si capisce come l'animazione possa trasformare uno sport in qualcosa di bellissimo da vedere perché a questo punto si parla appunto del lavoro dell'animazione perché la sceneggiatura è ganzissima i dialoghi sono scritti benissimo è molto realistico non mancano le parolacce non mancano le cattiverie non mancano anche una certa o un'altra volta dose di idea di come le scuole giapponesi siano incredibilmente sotto le macerie di un bullismo che sembra non finire mai e in tutto questo i personaggi si uniscono e si riuniscono attraverso un il personaggio unico che qui conta meno appunto il rosso che però risolutivissimo per la partita e dal quale si capisce parte un po tutto l'assunto anche se qui si sposta tutto in un'altra parte ma ne capiamo la forza perché riusciamo a capire che loro iniziano a vincere quando questo che solo quattro mesi che gioca tira fuori tutta la sua forza e anche la sua verve la scena che monta su inizia a di che cazzo volete fate cacci penso io e monta sul tavolino è geniale il fatto che lui sia il genio è veramente un'idea notevole anche perché il personaggio fa veramente ridere e il film ha dei punti di commedia che sono enormi dei punti di dramma che sono veramente ben scritti quindi è proprio un bel film un bel film e basta c'è poco da dire in più ripeto viene fuori un caratter design di questo nostro nuovo che insieme ai bar costruiscono appunto questo nuovo caratter design che simile ma che è fantastico per come è disegnato l'intro con i nostri che vengono disegnati a mano e piano piano cominciano a essere animati poi arrivano i colori poi arrivano i fondali e diventa ciò che andremo a vedere è veramente notevole così come l'ultimo finale disegnato a tratti così come la spiegazione del basket disegnato con disegnini tipo elementare quindi in tutto questo però arriva porca puttana una delle cose più belle mai viste a livello visivo una tecnica di 2d computer grafica disegno normale che si mescola in maniera enorme e che regala una partita di basket che pare più vera di quelle vere con delle inquadrature dei movimenti di macchina fantastici cambi di campo che volano via che è una bellezza un montaggio eccellente un montaggio eccellente per un film di animazione del genere riesce veramente a trasformare questa partita in qualcosa di epico in qualcosa che riesce a farci garbare anche un certo tipo di retorica sportiva ecco filmica ma il film poi funziona perché ripeto tutti i personaggi sono ben strutturati tutti da quello che fa i tiri da tre quell'altro che riesce vuole essere un campione deve riuscire a battere quell'altro in velocità il playmaker ripeto il grossone che c'è di nuovo anche il grossone di là uno sport che in realtà in un certo senso gli ampia la vita ancora di più di quello che si poteva pensare o che potevano pensare loro visti poi flashback e quindi un film un'altra volta che ci porta sulla condizione di avere da una parte ripeto una partita di basket che è fantastica per come viene giostrata chiaramente non può essere realistica al cento per cento ci sono molti meno cambi e tutto il resto però è un film un'altra volta che ci fa capire la voglia appunto e la forza del regista nel voler raccontare questa storia il regista che tra l'altro ama il basket alla stragrande e si vede si vede perché riesce a dare un'idea perfetta di come si possa giocare a basket riesce a spettacolarizzare senza mai però andare sopra le righe qualche cosina si lui si rompe e continua a giocare queste osse ricche non farete mai però è una questione anche di cinema cioè siamo di fronte anche a un film e un film che ripeto è animato da dio io c'è c'è una fluidità che mi ha lasciato senza parole il lavoro diciamo classico di tutti i paesaggi di loro disegnati e lascia anch'esso a bocca aperta perché è eccellente il lavoro proprio dei movimenti di come vengono caratterizzati attraverso i movimenti di macchina e la fotografia tutti tutti diciamo i caratteri design è assolutamente impossibile da non considerarsi eccellente quindi un film visivamente che può stordire alcuni può non garbare ma assolutamente avanguardia pure e che porta avanti l'animazione giapponese non solo di un bel pezzo specialmente quella sportiva perché qui siamo di fronte veramente a qualcosa di incredibile a livello visivo io mi sono trovato a guardare durante la partita estere fatto dei movimenti di macchina e che veramente erano bombe che mi ricordavano michael man mi ricordavano quello quella tua mamma ammazza che altezza che grandezza a livello di regia e pensa che il regista è il solito autore del manga che questo fatto il culo per imparare fa tutto per fare questo in 13 anni è veramente un grande perché qui si nota che oltre al livello commerciale dell'opera che chiaramente è stata fatta per quello è stato praticamente il più grande successo a botteghini di tutti i tempi del giappone questo film ancora e quindi ha distrutto anche delle action quindi ha distrutto qualunque cosa e se ne capisce perché all'epoca fu talmente famoso che ripeto che fece iniziaggio a basket metà di bimbi giapponesi ma anch'io ripeto che non ne sapevo praticamente un cazzo che avevo letto qualcosina qui a giro e sono rimasto basito da come fosse ben fatto finalmente un'animazione che ti prende con una storia molto semplice ma che non lascia minimamente da parte l'idea delle psicologie grazie a queste vince e funziona perché si mescola questo cinema sportivo e quest'idea di fare anime sportivo senza però esaltare la cazzata senza rendere supereroi questi giocatori ma alcuni hanno più talento altrimenti ma sono tutti comunque nella logica di poter fare qualcosa che è realistico non è che fanno come nei cartoni anni 70 i voli per aria con la palla da basket che è una cosa interessante perché spiega anche il basket a chi non lo conosce se volendo ci fa appassionare guarda me che a me non mi interessa anche se ne conosco le regole mai appassionato invece il film mi ha appassionato di più che una partita di basket vera e questo grazie ripeto alla bella sceneggiatura del regista che riesce a inserire all'interno di questa partita tutti questi flashback che messi insieme formano un'opera veramente di quelle che si dimenticano difficilmente proprio perché legata appunto a questa partita e il montaggio e tutto non perde mai il tempo giusto il giusto tempo della partita il giusto tempo del flashback veramente una bomba su questo punto di vista il punto di vista tecnico è intoccabile siamo di fronte a un'opera che visivamente lascia sbalorditi per la sua post avanguardia modernista nelle partite tutto questo movimento al compitore e anche per la sua scioltezza nell'essere in realtà così graficamente è classica con questi disegni appunto a mano questi acquerelli rimani basito e un'altra volta si riesce a capire la grandezza di questo regista autore dal fatto che comunque riesce a mettere le due cose tutte queste cose insieme specialmente due senza mai che sbattano uno contro l'altro poi le musiche sono fantastiche già il pezzo iniziale con cui si apre il l'animazione il cartone parte con questa meravigliosa canzone del post punk punk rock che picchia con quella voce sguaiatissima e le musiche in tutto il film che vadano dall'industriale all'elettronica tutto il resto di Takuma e Satoshi Takebe sono veramente una bomba così com'è una bomba il montaggio ripeto di Yuichi Takita che fa un lavoro eccellente su tutto ciò che è il movimento dentro il quadro grazie anche alla fotografia di Nakamura che riesce un'altra volta con tanti differenzi stili a riuscire a unirsi in realtà quindi una fotografia sparata fotografia quella da palazzito che cerca il realismo appunto della partita e poi l'antirealismo durante magari degli stop dei fermi e dei cambi assoluti e che in esterni cerca il realismo puro in realtà del Giappone che viene però diciamo così anche scarnificato in alcuni flashback in alcuni sogni in cui la fotografia inizia a fare praticamente il cazzo che vuole per un finale poi aperto veramente bomba quindi non so più cosa dirvi per me questo è un film assolutamente da andare a vedere anche diciamo gli effetti speciali in CGI e tutto il resto sono curatissimi ripeto è un film che lascia basiti perché nella storia di questa storia di due squadre che devono far botte la grandissima squadra e la piccolissima squadra che invece diventa forse più grande della più grande si mescola incredibilmente tutta una serie di storie di personaggi che raccontano tantissime parti non stereotipate dei giovani giapponesi e lo fanno attraverso una narrazione che comunque non dimentica mai lo spettacolo ma non dimentica mai nemmeno di far azionare tanto il cervello perché il film è una questione proprio di neuroni che si muovono dalla partita che deve essere concentrato per seguire ogni cosa perché è veramente precisa a appunto tutta la parte narrata dialogata e anche noi perché i silenzi sono sempre importantissimi come in tutto il cinema giapponese dove appunto tutto quello che vediamo sul campo diventa ancora più forte grazie alla perizia appunto del nostro sceneggiatore regista che riesce comunque a costruire qualcosa di veramente ottimo ora non so se è un capolavoro se è un film eccezionale a me per me è veramente un gran bel film come si dice un gran bel film l'ho visto veramente stravolentieri nonostante basket non mi fregasse un cazzo nonostante non conoscessi praticamente slam dunk se non che il rosso era protagonista infatti mi ha anche stupito che non lo è così tanto ma ripeto è una scelta narrativa giustissima per poter far vedere il film anche a chi non conosce benissimo la serie perché noi capiamo benissimo che lui è pochi mesi e che quindi è tutto definito abbastanza bene non voglio dire più perché magari qualcuno ancora non l'ha visto io insomma sono contento di vedere sempre più animazioni al cinema ho visto in due mesi e suzanne e questo che ha tra l'altro un art diretto clamoroso kazoo augura che fa un lavoro appunto totale incredibile ma veramente ripeto è un film che vola altissimo è un film che vola altissimo a livello visivo una delle cose più belle che mi sia capito vedere al cinema di animazione di questo tipo e che ha una sceneggiatura degna finalmente di tale nome che costruisce dei personaggi che non sono delle figurine bidimensionali appunto da pca su l'album dei giocatori di basket ma che hanno una forza ecco psicologica e anche epica e anche umana e che raramente insomma si riesce a trovare in un cinema sportivo è in special modo quello di animazione che a volte è un po' troppo carico ripeto questo per me è un grande film di animazione andatela vedere se amate l'animazione giapponese secondo me non lo potete perdere perché è veramente qualcosa di incredibile poi certo potrà piacere o piacere di meno perché comunque potrà stuccare potrà affaggiare la testa perché non è un modo di narrare così normale questo andare avanti e indietro è tutto questo movimento al computer e questa idea appunto del 2d 3d grafiche che si mescola però insomma al di là dei gusti personali questo è oggettivamente infime fatto contro cazzi poi in se piace o non piace chiaramente dipende più o meno da gusti personali però posso dire che io sono andato con mia moglie che anche lei del basket ne frega un cazzo è rimasta anche lei flashata l'animazione gli è piaciuto molto come gli altri miei amici perché eravamo tutti al diciamo a digiuno della storia base eravamo tutte gente che non ne frega un cazzo del basket e siamo usciti tutti dicendo però ci ha quasi quasi fatto garba il basket questo film perché è fatto veramente di russo di più non so cosa dirvi andate al cinema perché non fa mai male e questo film insomma ci resta per poco e sarebbe il caso di sponsorizzarlo così come è capitato per susan magari continuano a mandarci tanta bella animazione orientale anche da noi perché male un fa quindi ripeto andate al cinema e questo the first slam dunk del 2023 appunto di quest'anno da noi uscito il 2022 da noi uscito adesso di pachiko in ouwe che ha diretto scritto quello che ha fatto il manga ha fatto tutto è un film assolutamente da vedere su grande schermo e da non perdere perché è uno spettacolo per gli occhi e per la testa di quelli che non capitano spesso donate su patreon iscrivetevi al canale mi piace il pulsantino per avere le notifiche direttamente con la campanellina appena esce il video il pulsante del super grazie appunto per donare direttamente qui su youtube poi seguitemi su facebook su instagram tutte le cose che faccio a giro per l'italia quindi volate arcine